Questa è una costante che non riusciamo ad avere l'approccio giusto alle gare ed è una costante che dall'inizio dell'anno andiamo quasi in tutte le partite sotto. Poi abbiamo giustamente meritato da parte della squadra di casa che fino a quel frangente aveva fatto un'ottima gara a dire il vero. Poi piano piano siamo usciti fuori con qualche azione individuale o pure nel collettivo abbiamo fatto bene nonostante eravamo in vantaggio. Poi il secondo tempo secondo me è stata una gara, i ragazzi sono usciti con il piglio giusto e hanno trovato il pareggio e subito dopo il vantaggio. Poi dopo l'espulsione del loro numero dieci la partita si può dire che è stata completamente chiusa e poi abbiamo anche come hai detto benissimo siamo andati anche oltre quello che era il verdetto del campo. Guarda l'obiettivo l'ho detto dall'inizio dell'anno. Questa squadra era partita con l'ambizione di cercare di lottare per la vittoria del campionato. Poi come oggi soprattutto eravamo rimaneggiati da quattro infortunati. Coulibaly che ha giocato al 50% e poi tutte le assenze che abbiamo avuto che sono otto dai giocatori che sono andati via per motivi di lavoro. Quindi oramai l'obiettivo è di arrivare il più alto possibile sapendo sempre che non è l'organico costruito per poter arrivare a primi o lì ecco. Noi ce la metteremo tutta. Oggi avevamo di fronte una squadra molto attrezzata dotata tecnicamente che in questa prima fase diciamo del campionato diciamo ha balbettato un pochino ma per i vari problemi che ha avuto di campo e oggi l'ha dimostrato. Come diceva lei noi siamo partiti benissimo tant'è che a fine primo tempo i ragazzi gli ho fatto i complimenti perché hanno fatto una partita tatticamente disciplinata tenendo testa un mammola che non ha fatto niente di particolare. Non si era reso particolare e pericoloso fino a quel momento. Quindi diciamo che poi fra l'altro eravamo passati pure in vantaggio con un gol di Sirian al suo secondo gol consecutivo in due partite e quindi un ottimo punto di vantaggio per quel primo tempo. però purtroppo abbiamo preso il gol subito al primo minuto e al secondo tempo e sono quei gol che poi alla fine condizionano l'esito della partita perché tenere ancora per qualche altro minuto avrebbe secondo me permesso di avere un tema diverso la partita.